Università degli Studi dell'Insubria, un Ateneo giovane, dinamico, che crede in una ricerca, una ricerca di punta, che va dai test salivari del Covid alla sostenibilità ambientale, dalla chimica verde, dall'astrofisica al data science, alle digital humanities. In tutto questo c'è qualcosa di unificante, la competenza, il talento, l'immaginazione, l'intuizione. Investiamo nella ricerca, investiamo nel nostro futuro, investiamo nell'Università dell'Insubria.